come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità allora iniziamo da qui nel video di oggi volevo parlarvi di mia ovviamente è una bozza lo sapete è una bozza che ha tirato fuori il corriere della sera dove si parla appunto del nuovo sussidio che si chiama appunto mia misura di inclusione attiva e che secondo appunto loro dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza forse se ne parla forse già a partire da settembre dopo lo scadere dei sette mesi di rdc sì cosa ho fatto io non mi sono fermato partiamo da qui tutti tutti io compreso ci siamo fermati sul discorso dell'importo 500 euro a uno 370 euro all'altro occupabili e non occupabili siamo un po concentrati su questo discorso qua più che altro dei soldi che potrebbe sembrare la cosa più interessante ma in realtà c'è anche altro allora cosa ho fatto io ho fatto ovviamente delle ricerche e sono andato a cercare un attimino un pochino più in dettaglio tutta la questione e così si parla anche di offerta congrua di formazione obbligatoria del tetto dell'isè perché anche questo pare che ci siamo un po di me ne avevo parlato ma adesso vediamo bene e anche del tetto dei 3000 euro perché perché c'è un tetto che riguarda un importo che arriva fino a 3000 euro ma partiamo dall'offerta congrua che mi sembra una cosa non da poco in pratica e il corriere della sera dice che basterà un solo no per perdere il sussidio e diciamo che non è proprio una bella cosa ecco e che tutte le offerte congrue sono quelle in linea con il profilo della persona del percettore del sussidio quindi come vi avevo già detto in un altro in un altro video ci sarà dicono dicono che ci sarà questo appunto questo sito internet del ministero del del lavoro è così il ministero del lavoro o dell'interno non mi ricordo bene comunque uno dei due dove praticamente ci sarà tutto un elenco di lavori dove uno potrà iscriversi per poter accedere a quel tipo di lavoro basta che il sistema ti dice ti abbina un lavoro e tu dici magari no non mi interessa perché non so non mi piace ecco lì c'è il rischio di perdere il sussidio hanno detto che l'offerta congrua comunque deve dovrebbe trovarsi nella provincia di residenza o nei comuni l'intorno ecco poi si è parlato della formazione obbligatoria perché ci sarebbero dei dei vincoli ecco è uno appunto dei requisiti secondo il corriere sarebbe l'obbligo di partecipazione attiva formazione lavoro anche per i minorenni con almeno 16 anni di età se non sono impegnati in un percorso di studio percorso di studio non vuol dire niente altro che non so medie superiori università cioè in pratica che non stiano studiando e a questa formazione obbligatoria secondo il corriere sarebbero obbliganti tutti i componenti del nucleo familiare che sono maggiorenni oppure che oppure siano minorenni cioè sotto i 18 anni quindi che abbiano compiuto proprio agli obblighi scolastici sarebbero esclusi solo chi le persone che hanno più di 60 anni oppure i componenti del nucleo familiare che hanno una disabilità poi per quanto riguarda l'ISEE secondo appunto questa bozza che è uscita sul corriere l'importo dell'ISEE per poter accedere al sussidio attualmente rdc di 9.360 euro ma secondo loro appunto il tetto dell'ISEE dovrebbe scendere a 7.200 euro poi va bene per quanto riguarda gli importi e le scale di equivalenza pari a 1 il primo componente 04 secondo ulteriore adulto fino massima eccetera eccetera adesso non sto a spiegarlo perché sennò diventa troppo lungo e ne ho parlato in un video che poi uscirà nei prossimi giorni quindi adesso non so quando vedrete questo video non so se l'avete già visto oppure no comunque questa scala di equivalenza ne ho parlato proprio in un video dove facciamo proprio i conti della serva ecco per capire quanto veramente conveniente e poi l'altro argomento riguarda questi 3.000 euro ma che cosa sono esattamente questi 3.000 euro secondo la legge di bilancio del 2023 con una norma che è stata introdotta appunto all'interno della legge di balancio consentirebbe ci sarebbe la possibilità di consentire i titolari quindi chi percepisce il reddito di cittadinanza di cumulare l'assegno del drdc con dei redditi da lavoro stagionali o intermittenti fino a 3.000 euro all'anno e pare pare che questa bozza del corriere quant'altro darebbe la possibilità cioè praticamente porterebbe questo cumulo di 3.000 euro all'anno di redditi anche all'interno di mia per il tutti i lavori tipo di lavori dipendenti e dicono dicono che chi supera questo questi 3.000 euro all'anno ma ha un contratto a termine di durata inferiore a alla percezione del sussidio di mia praticamente la prestazione il pagamento del sussidio verrà sospeso durante il periodo diciamo lavorativo e poi verrà riattivato al termine del lavoro quindi praticamente chi lo supera viene bloccato e poi si riprende si riprende dopo questo tutto quello che vi ho detto finora ovviamente come vi ho detto all'inizio del video riguarda una bossa che circola che è stata appunto tirata fuori dal corriere della sera e poi rimarcata anche dal lanza su altre notizie con altre notizie ecco quindi eventualmente poi io vi lascio il link del sito internet del corriere dove l'ho letto io così se volete ve lo potete andare a leggere tranquillamente con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato iscrivetevi al mio canale attivate anche la campanellina così non sarete più in ritardo con tutte le novità e in più aiutate il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale di youtube vi aspetto ciao